Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video Spero che avete passato una buonissima epifania E comunque adesso facciamo un super video Innanzitutto guardiamo quante lire c'ho in questa stellina Poi faremo l'unboxing di questa macchinina Vedete già che macchina è? Una Toyota Celica GT Coupe E attaccheremo insieme qualche figurina E quindi rimanete fino alla fine Lasciate un bel like, iscrivetevi al canale E attivate la campanella per non perdervi nessun video Ok, iniziamo da quante lire c'ho in questa stellina E' pienissima e pesa tantissimo Guardate quante ce ne sono Oggi le contiamo tutte Allora, prima abbiamo questi 50 lire minuscole del 1992 Abbastanza conservate bene Poi abbiamo 100 lire del 99 Questo è il pezzo forte Queste sono 1000 lire del 1998 Un'altra copia di questi Ma in un'altra box Guardate com'è conservata Poi abbiamo 50 lire però questa volta sono più grandi rispetto a queste piccole Tra poco vi spiegherò il perché Del 77, quindi più vecchie di quelle piccole Poi qua Repubblica Italiana 5 lire normalissime del 1987 Che vi ho fatto vedere in un vecchio video Tipo di 2-3 anni fa Se volete andatevelo a vedere Se voglio vi mando pure il link Altre 50 lire del 79 50 lire minuscole del 99 200 lire dell'80 Molto carine, molto belle Altri 50 lire stavolta Sempre il 77 perché ce ne sono tante del 77 50 lire del 96 100 lire del 99 Poi Altri 50 lire del 78 Qua del 1990 abbiamo ben 10 lire Qua invece abbiamo tanti centesimi Tanti centesimi Abbiamo Allora abbiamo qua 2 centesimi raffigurati la molla antonelliana del 2015 Del 2017 Sempre raffigurata la molla antonelliana Sempre 2 centesimi E questi sono altri due centesimi Che raffigurano sempre la molla antonelliana Uno però del 2015 E l'altro del 2016 Poi Abbiamo Questi 50 lire del 79 Altri 50 lire sempre del 79 Altri 200 lire stavolta del 78 Un po' rovinate Però vanno bene Sempre 200 lire stavolta del 79 Sempre del 79 Queste 500 lire piccolissime L'anno del 1991 Poi mi stanno chiedendo Come mai hanno fatto in un certo periodo Soprattutto negli anni 90 Le lire minuscole E perché Dovevano risparmiare tanto metallo Quindi hanno deciso di farle molto più piccole rispetto a quelle normali Ma le persone non piacevano queste lire piccole Perché Perché ne perdevano Quindi poi alla fine degli anni 90 Deciso di farle ritornare come erano In origine come questa dell'82 Che raffigurano 50 lire Questa è una delle più importanti Che vi farò vedere in questo video Sono 100 lire Del Vaticano Che raffigura la città del Vaticano Raffigurante la colomba Della Pasqua Qua c'è M Papalus Qua raffigura lo stemma del Vaticano Del Papa Sono 100 lire Non si sa L'anno L'anno Non viene detto Però sono abbastanza antiche Si vede già 100 lire del 96 Minuscole Poi si stia chiedendo E come mai Sto servendo I centesimi di euro Non lo so Me li ero trovati Lì dentro 5 centesimi Raffigurante il Colosseo Del 2016 E sempre del 2016 Raffigurante la Molento Leriana 2 centesimi 50 lire Del 72 Qua sempre 50 lire Però del 76 Uh 20 lire Le prime 20 lire In questo video Queste qua Abbastanza diverse Dell'80 Dell'81 Queste invece Non sono lire Sono i franchi Poi c'è scritto Un FR Del 68 168 E cosa sono i franchi? E hanno le monete francesi Prima di adottare L'euro Nell'inizio Degli anni 2000 Quindi oppure Monete straniere Poi ve ne farò vedere Altre Perché non sono finite qua 100 lire Del 98 Qua del 1992 100 lire Altre 100 lire Qua del 87 50 lire 100 lire Del 92 Qua invece Del 79 Altre 50 lire Qua invece Abbiamo Un gettone Telefonico L'anno Non lo dice Però Questo Me l'ha dato Mi l'ha dato mio padre Perché se l'è conservato Questo forse Degli anni 80 Qua sempre È afficolata La molla Antonelliana Ma non mi chiedete Perché Conservavo queste Soprattutto Con la molla Antonelliana C'era solamente Quella del Colosseo Oltre a quella Con la molla Antonelliana Del 2016 E sono 2 centesimi Ecco 3 mini lire 50 lire Del 93 100 lire Del 90 E 50 lire Del 93 50 lire Del 79 2 monete dorate Allora Vediamole in ordine 93 200 lire Qua 50 lire Del 93 No Aspè Sì Sempre del 93 Questa moneta È rarissima Ve la faccio vedere E questa Ve la faccio vedere Come ultima Perché è davvero importante 50 lire Del 67 5 lire Del 87 10 anni dopo Un centesimo Un centesimo Di quale anno 2012 1177 10 lire 50 lire Del 75 50 lire Stavolta Del 77 Questa è Abbastanza Bella Qua Repubblica Italiana Davvero Diversa Rispetto Alle altre Ifad 1998 500 lire 50 lire Del Non si vede 1996 Nel 1977 50 lire 200 lire Del 79 Abbiamo quasi finito Ragazzi Qua Invece Sono Guarda Quante sono Belle Anche se Non so Se valgono Qualcosa Sono È un Penny Un penny Del 2009 La moneta Più Più Recente Qua Anche se Non sono Conservate Benissimo 50 lire Del 96 Qua 100 lire Del Aspetta Non leggo Non leggo Bene Ok Sono 100 lire Del 90 Queste Sono Be Wow Ma Ma Quanto Sono Belle Delle 85 500 Lire Anche Abbastanza Conservate Bene 50 lire Del 1980 Qua Invece Del 1999 Abbiamo 50 lire Due Centesimi Raffigurante La moneta Nelliana Del 2016 Un altro Centesimo Del 2014 Abbiamo Quasi Finito Ragazzi 50 lire Minoscole Del 1994 200 lire Del 78 Conservato Un po' Male 50 lire Del 98 Raffigurante La moneta Nelliana Due Centesimi Del 2015 Anzi No Balle Non è La moneta Più Recente Quei Penni Ci sono Tutti Due Centesimi Della Molanto Nelliana 100 lire Del 1992 Così Chill Poi Sempre Del 2012 Un Centesimo Poi 50 lire Del 90 Tutti 50 lire Sto Trovando Sì Sto Trovando Tutti 50 lire 50 lire Del 1977 Poi 50 lire Minuscole Del 94 Stavo per dire 92 Poi abbiamo Due monete Guardi In confronto I centesimi Erano piccole Piccolissime Due centesimi Raffigurante Molanto Nelliana Del 2017 E 50 lire Del 1992 Qua Abbiamo 100 lire Del 1991 Oh Sono Quasi Finite 50 lire Minuscole Del 94 50 lire Minuscole Stavolta Del 91 Un Centesimo Raffigurante Non si Vede Bene La data Del 2016 Repubblica Italiana 5 lire Del 90 Che Sono davvero Leggeri Spetta 50 lire Si E L'ultima Che è la più Importante Sono 200 lire E Sono il Centenario 1889 1989 Centenario Dell'arsenale Militare Marittimo Di Taranto E Queste Sono Tutte Lire Centesimi Rari No I centesimi Non erano Poi così Rari Rimettiamole Tutte A posto Mamma mia Che spacchettamento Che è Stato Dio Ci vorranno 50 anni Per Mettere Tutte A posto E Voi Mi state Chiedendo Ma Quante Sono Le Tue Lire 64 Ma Non Sono In Tutto 64 Io Ne ho Contato 64 Un Certo Certe Lire E Pure I Centesimi Tutti Però Ce ne Sono Altre Quindi Non Sono 64 Tipo Sono Un'ottantina Di lire Non Sembra Non Sembra No Ho messa Male Merry Christmas Ok Poi Passiamo Alla Toyota Selica Come vi Ho Detto Volte Vederla Bene Questa Qua CT Coupé Maggiorette 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 Comprendeva pure Questa Scatolina Dove Metterla Perché Abbastanza Rale Una Special Edition Rispetto a Tutte Le Maggiorette Dopo vi Faccio Vedere La Mia Varigetta Con Maggiorette O Tools Va Bene Eccola Qua Togliamola Bene E Commentiamola Insieme Questa È Una Toyota Selica Come vi Ho Detto L'anno Non Si Sa Ma Saranno Ogni Ottanta Perché Ci Sono stati Tanti Tipi Di Toyota Selica Fatte Abbastanza Bene Fanali Fatti Bene Pure È Abbastanza Pesantucce Fatta Tipo In Metallo Bene E Si Aprono Gli Sportelli A Questa Toyota Selica Guardiamo Bene Gli Interni Si Niente Di Che Dietro C'è Scritto GT Con Vediamo Un po Che Rumore Fa Quando Non È Così Tanto Rumorosa Perché Le Ruote Sono Abbastanza Morbide E L'hanno Si Pure Qua sotto Non lo Dice Dice Che Una Toyota Selica GT Coupé Sembra Molto Una Macchina Da Rally Forse Lo È Per Davvero E Comunque A parte Di Che Si È Veramente Bella Mi Do Un Bello 10 Su C'è Questa Macchina Prima Di Passare All'ultima Cosa Vi Faccio Vedere La Mia Valigetta Con Tante Macchinine Della Hot Wheels E Majorette Partiamo Da Questa Macchina Che La Corvette Del 1956 Del Film Di Barbie Si Perché Quale Sono Pure Le Macchine Dei Film Partiamo Prima Da Questa Ok Allora Ve le faccio Vedere Meglio Allora Qua è una Porsche 550 Spider Guardate Quanto È Bella Questa È Una Mini Honda Pure Questa È Bellissima Questa È Anche Conservata De Majorette Solo Che Non Si Apre Nulla È Una Jeep Rabicon Land Rover Serie 3 Pickup Bella Oh I Tempi In Cui Esisteva La Honda Civic Non So Se Esiste Ancora Fatemelo Sapere Qua Sotto In Commenti Anche Se So Che Non Scriverete Proprio Nulla Questa Porsche È Del 1996 Ed È Una Porsche Carrera Nera Vi Faccio Vedere Pure La Versione Più Grande Aspettate Non so Se L'avete Vista In Qualche Mio Video E Questa Qua Non So Se La Vedete Bene E Questa Porsche La Carrera O Forse Una 950 Qualcosa Se Non È Una Carrera Poi abbiamo Un'altra Selica Questa È Una Selica GT Sempre GT Coupé Vediamo Un po' Se è Diverso Da Quella Normale Perché Ci sono Stati Tanti Tipi Di Selica Eh Forse No È Diversa O Forse Simile Vabbè Comunque Cambia Tanto Da Quell'altra Selica Però Una Cosa Che Hanno Comune Oltre A Essere La Stessa Macchina Si Aprono Sempre Gli Sportelli E Gli Interni Sono Rossi E Ovviamente Hanno Pure Colori Diversi Ma È Davvero Bella Abbiamo Una Renault 12 Qua Abbiamo La Card Quindi Qua Vi Fa Vedere Tutte Le Caratteristiche Ora Questa Renault Si Aprono Gli Sportelli E Abbas Ma Che Bella C'ha I Colori Bellissimi Poi Che Bello Questo Blu Cobalto Un' Altra Selica Sempre Lo stesso Modello Qua Davanti Un po' Rovinata Sempre Si Apri I Sportelli Gli Interni Sono Neri E Come Ultima Di Questa Valeggetta Abbiamo Questa Macchinina Bella Una Mercedes Benz SLR McLaren McLaren Strano Che poi In un video Vi avevo Chiesto Non lo so Se Vi Potevo Fai Vedere Le mie Macchinine Le mie Regali Che Ho Ricevuto A Natale Ho Ricevuto Questa Macchinina Corvette E le Altre Macchine Che Ho Ricevuto A Natale Si Trovano Qua Ma Non Sono Tutte Queste Che Cavolo Si Si Apre Ok Ok Si Aperta Una Macchina Che Ho Ricevuto A Natale Che Mi È Piaciuta Abbastanza Ah E Questa Porsche Majorette Guardate Vi Fa Vedere Pure Quale Caratteristiche Guardate Quanto È Bella Si Apre Qua Dietro Ma È Una Cosa Assurda Ma È Fatta Davvero Bene Una 917 Ah Lo diceva Pure Qua Vabbè Allora Prima Partiamo Da Questa L'avete Vista Forse In un Video Della Famiglia Robinson La Porsche 935 Forse No O Forse Si Abbiamo Questa Ford Una Ford GT Bellissima Blu Con Blu Bellissimo Citroen Due Cavalli Sempre Maggiorete Perché Si Apre Questo Stupenda C'era pure Il qua Il coso La Card Ma Non La Trovo Più Pure Questa Citroen È Bellissima Sempre Maggiorete Si Apre Qua Ma Il Cofano E La Versione Cactus Eppure Là C'aveva La La Card Questa Tesla Ho Deciso Di Metterla Perché Qua C'è L'astronauta Perché Questa Tesla È Stata Mandata Nello Spazio E Questa Cosa È Abbastanza Assurda Poi Abbiamo Una Renault Renault 5 Turbo Sempre Maggiorete Ecco Si Apre Il Cofanetto Come Alla Cactus Bella Con Le Questa È Stata Una Delle Vecchissime Maggiorete In Assoluto L'ho Trovata A casa Mia Ed È Davvero Vecchia Non Si Apre Nulla Ed È Una Jeep Jeep Non Si Sac Quale E L'ultima Maggiorete È Questa Qua Non So Se L'avete Vista Da Qualche Parte Un Alpine Dove Avere Pure Qua La Card Ma Io Non Le Trovo Si Apron Gli Sportelli Ed È Un Alpine A 110 Come La Auto Bianca Ok Ma I Regali Di Natale Non Sono Finiti Qui Ok Vi Piace Allora Ho ricevuto Come Regalo Di Natale Oltre Una Maglia Del Cosenza Quella Laser Di Questa Stagione Cercatela Se non Siete A Conoscenza Ho ricevuto Questa Rosa Del Milan Fatta Con I Lego C'è Il Pallone L'allenatore E Tutti Gli Undici Giocatori Compreso Il Portiere Vi Piace E Come Ultima Cosa Come Vi Ho Promesso Apriamo Mettiamo Qualche Figurina Ovviamente Questa Qua È Da Conservare Perché Non Mi ha Attaccato Nulla Qua Atalanta Go Dea Atalanta Bergamo C'ho la Collezione Di Ste Cose Allora Dovrebbero Essere Finite Quante Ce ne Sono Quante Ok Sono Tutte Queste Allora Prima Partiamo Tra Questi Giocatori Del Venezia Dobbiamo Cercare Il Venezia Una Parola Cercarlo Venezia Dove Sei Venezietta Eccolo Allora Abbiamo Denis Jonsen Nicola Sperini E Joel Poi Giampalo Poi Giampalo Lo Conosco Perini Jonsen Ok Già Trovati Jonsen Lo Mettiamo Qua Nicola Sperini Lo Mettiamo Qui E Joel Po Giampalo Il Finlandese Che Conoscevo Già Lo Mettiamo Qui Attenzione A non Trovare Doppioni Cavolo Ci Sono Tre Giocatori Della Samp L'avevo Vista Prima La Samp Eccola Ronaldo C'è uno Che si Chiama Ronaldo No Ronaldo Vieira Gerard Iepes E Valerio Verre Scusa Se Gli ho pronunciati Male Allora Valerio Verre Gerard Iepes E Ronaldo Vieira Partiamo Da Ronaldo Questo 618 L'ho attaccata Malissimo Ma Dettagli Poi Da Gerard Iepes Lo Spagnolo Nato Nel 2002 E Infine Andiamo Valerio Verre Povero Ronaldo È stato Attaccato Malissimo Rispetto A I Due Compagnetti Ok Ci Mangano Queste Altre 4 Card Allora Partiamo Da Questo Qua Dell'Empoli Rush Van Marin Oddio Ma una parola Oh Ce l'ho quasi fatta Non ci credo Aspettate Qualche Minuto Se voi Se volete Potete Skippare Gran parte Del video Però Cavolo Perché Non vi Aprite Per bene Ok Ce l'ho Fatta Ce l'ho Fatta Basta Cercare Solamente L'Empoli Empoli 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 Dove cavolo È L'Empoli Prima Della Fiorentina Ecco L'Empoli Rush Capito Rush Van Che numero Era 618 No 96 Eccolo Rush Van Ora Andiamo Oh Ecco il Frosinone Perché Del Frosinone Abbiamo Antonio Iono Poi Dobbiamo Andare All'inter Perché Ne Abbiamo Due Antonio Iono Che Numero È 137 E 137 È Qua No Ti prego Iono Sono partito Prima Con i giocatori Della Della Sampe Del Venezia Perché Quelli Sono Facili Da Togliere Questi No Cacchio Come mai Non Si Toglie Come mai Ok Fatto Fatto Dove Iono 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 Eccolo Della Sierra Leone E come Ultima Non Per importanza Abbiamo L'Inter Con Un 226 Che E un 208 Prima Partiamo Da Alexis Sanchez Gli ultimi Due Resistete Ragazzi Ok Alexis Sanchez Che Poi Italiano Ah no È Cileno È Cileno Ecco Perché C'avevano Ed Emilio Audero Il Nuovo Portiere No Il nuovo Portiere È No Scusate Se sta durando Tanto Sto Video Sè L'ultimo Ebbene Ragazzi Questo Video Termina Qua Spero Vi sia Piaciuto C'è pure Carlo Salve Lasciate Un bel Like Iscrivetevi Al canale E Attivate La Campanella Per Non Per Non Non Noi Ci Vediamo In Un Prossimo Video Ciao Ciao a Tutti Ragazzi Iscrivetevi Che Poi Apriremo Pure Questa Cina Avanti Ciao a Tutti Prossimo